con questa domenica delle palmen entriamo nella settimana santa nella settimana più santa che ci sia una settimana di passione una passione d'amore di un dio innamorato a tal punto da dare tutto di sé per noi un dio che si spinge fino all'ultimo baluardo della vita fino alla morte che nessuno possa mai dubitare di quanto dio l'amore degli amori sia pronto a vivere per ciascuno di noi perché noi potessimo aver la vita perché la morte che lui ha sconfitto diventasse anche la vittoria per ciascuno di noi la vittoria della vita certo ogni storia d'amore ha bisogno di ricevere un coinvolgimento chi tra voi ha vissuto il ricevere una proposta d'amore sa che quella storia è iniziata perché ha scelto di rispondere di appassionarsi a quell'amore ecco l'amore degli amori ci fa una proposta una proposta di entrare con lui in questa passione d'amore di essere coinvolti dal suo amore che è pronto al dono totale al dono della vita una storia d'amore non inizia se non c'è anche la risposta il coinvolgimento allora che questa settimana sia una settimana in cui ci decidiamo per lui una settimana in cui verifichiamo anche come sia la nostra risposta a quest'amore a questa passione d'amore se sia una risposta convenzionale fatta semplicemente di belle tradizioni ma che appartengono più al folklore che alla fede oppure se è una risposta che coinvolge anche il cuore e allora inizierà la storia più bella la storia con l'amore più grande che ci possa essere una storia d'amore che ci porta al mattino di Pasqua alla pienezza della vita alla pienezza della gioia buona settimana santa